Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo FAQ Ciao Allora, andiamo a vedere immediatamente la top Allora, Lion My Smile ancora prima In classifica Gianmarco Rossi sta sempre in Lanzi, secondo te è salito? Si, è salito Gormax Channel Poi The Show 4 Chi è ritornato in classifica? Lion King 54 Che c'è sempre su tutti i videocamper Poi Willoyo08 che mi sembra che è salito Sì, è salito prima, era in penultima Umi è scesa Vittorio Di Maio E Vittorio Di Maio è nuovo? È nuovo È nuovo Un nuovo in classifica Credo Bravo, complimenti Passiamo alle domande Vi volete rimedialmente domande veloci, veloci come sempre Dieci persone, dieci domande Con le domande, risposte, segui tutto Saluta Quelle che non ci sono è perché abbiamo già risposto O perché non potevamo farle Io ho una domanda, che a me male sembro? Un deficiente Ti mi non ha domande Allora Hashtag Celebroresi No, Hashtag Celebroresi no Che sennò lo fanno Fuori quello ci manca Allora Darkrai Darkrai484 Hashtag domanda Allora direi che il mio cantante preferito è Manuel Official Channel E tutte le sue canzoni Sono belli E hanno anche canzoni No, alcune canzoni di FNAF fatte da gruppo The Living Tombstone Sempre su YouTube Minchia I canzoni di FNAF sarebbero da vedere Poi per la scorsa domanda che avevo detto che al quinto posto c'è Resi Avevo detto, beh lo sapete, intendevo il fatto che è pazzo È vero Ciao Darkrai Sì è vero, sei pazzo Sei pazzo malato Vai andiamo avanti Seconda domanda Mister Dolore Allora Efebba che rispondi Ma Yute lo fate per i soldi o per intrattenerci Forse intenderò YouTube E Yute, Yute ha scritto Ok Non è vero Se lo dobbiamo fare per i soldi non apriamo un canale in 5 Ecco Infatti basta vedere i canali singoli fanno ride Io voglio diventare famoso per fare una mignota Già lo sei Tu già sei una mignota Non sai per il mio Qualche sia la risposta se la danno la solita Sì ovviamente Allora Andiamo avanti GhostDraid23 Ho detto bene GhostDraid Sì Un'altra volta A risparare E bagliare Efebba che rispondi Potete fare più LuckyBlock o più Pixelmon Perché a me piacciono tanto E spero che pure agli altri piaccia Vi voglio molto bene E vorrei avere il vostro numero di telefono Non credo Allora Innanzitutto Per la LuckyBlock e la Pixelmon Sarebbe un po' impossibile Perché cerchiamo di lasciare spazio Anche ad altri video Comunque sia Quindi l'abbiamo messo Solamente due volte a settimana La Pixelmon E una volta la LuckyBlock E poi la LuckyBlock bene o male Perché i minigiochi Possono essere pure la LuckyBlock Ci stanno Ci stanno E il mio numero di telefono È 899-892-892 Ok ma è uno Dalla pompe fune No sono quelli a pagamento No sono quelli a pagamento Ok Hashtag Doamanda No Doanda 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 Perché non fate la Pixelmon Tutti e 5 Vi voglio un sacco di beni Ho solamente Un 11 E mi chiamo Luca Solo un 11 Perché l'altro L'ha lanciato Come sei cattivo Vabbè siete fra i migliori youtuber preferiti Saluti con affetto da Lucas Vai intanto diciamo la domanda Perché non fate la Pixelmon Tutti e 5 Perché Oddio No lo so Potete pure Possiamo pure Potete Potete unirvi Allora iniziate diciamo come serie Personale loro Perché volevamo dare un po' di movimento E di cambiare un po' le cose E anche di poter Avere spazio per i canali singoli all'inizio Quindi però Casomai si evolveranno le cose Si vedrà più avanti Però adesso è così E poi ci dice La mia canzone preferita è Maracanà E il mio artista preferito è Mi schia Ci vedi che avevo letto La Macarena 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 Se lo legge senza accento È Maracana È Maracana Giù È Maracana È un accento Ok Lucas Pietrantonio Ifebba che salutami Ciao Ciao Ifebba che rispondi Io vorrei avere il vostro telefono Anche con un altro Taglio Solo perché vi voglio bene E fate molto ridere Perché vogliono mettersi al telefono con me E facciamo ridere per telefono Allora Ciao quando mi arrivano E chiamate sui account Da Maci Ciao Morduk Ciao No tipo Mi arrivano i messaggi Morduk Ok Allora Spero che continuate a far ridere Come fate sempre O se migliorate è meglio È Maglio È Maglio È Maglio Maglio dell'antico Forse è Maglia Vogliono che incominciamo a lavorare Maglia Mentre facciamo ridere Così facciamo ridere due volte Perché lavoriamo a Maglia male Sì Ok Allora Ashtag domanda Perché non fate entrare nel vostro canale Ragazzi di qui Ehi Che puoi fare? Tadà Voi l'avete chiesto E noi ve lo dammo Siamo in Monfebba Da dove l'abbiamo fatto scendere? Dall'alto dei cieli Ecco qua Emo abbiamo visto il sesto Il sesto mi ci chiamiamo buono No siamo un sestino Quindi adesso rispondi anche tu alle domande del fuck Vai Voi tocca Ecco Umi La mia amata quarta posizione No Poi c'è pure questo C'è una rappassa e benedì Pure questa è scusa ancora di più Allora Filippa che rispondi Qual è l'oggetto in cui non potreste vivere? Oddio Forse è la connessione No Il cellulare No neanche Io lo tolgo su Ultimamente si Qual è? Il dildo No si Non touch my dildo Il pc Ma il pc Ma il pc senza connessione che ci fai? Puoi giocare in single player? Adesso buttato il pc ma c'è il tuo Certo Puoi sempre giocare a bagel? E vabbè Puoi sempre abbrirlo e farci l'amore Puoi sempre giocare in single player a minecraft? Che tristezza Se puoi comprare i cd di porno al Alla dico la e ti metti più le tante Sembrava che sei da Hilton Da Hilton è quelli in time No 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 Ti avanti va Due che tipo di torte vi piacciono? La mimosa Non mi piace nessun tipo di torta A parte la mimosa Tutte le altre fanno schifo Tirami su come torta come torta Sì 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 Io voglio assaggiare la torta cookie Eh no Sì no la cookie La Voglio reo Voglio reo Ecco sì Ecco Voglio assaggiarla Tirami su Di pizza se c'è il coraggio E tirami su pure Morduk Vai Vabbè BOOM Tirami su pure io va Non lo faccio In me c'è dei problemi di pipino Per piacere la miso Allora Tre Qual è il regalo più stupido e imbrazzante Che vi hanno fatto? Pottino io ce l'ho però Al completo Il cugino Mio cugino Il mio cugino Il mio cugino Il mio cugino mi regalo Un paio di mutantine Mangiandili alla fragola Le caramelle Che stile Io le ho scato a vedere Sì sono Io le ho perso Solo per vedere come erano Mi sono fatte le peggiori salve Ma le caramelle fanno schifo A me è stupido Sì ma è strana Cioè se me la dovessi mettere Non saprei da dove inizia A me è stupido Non è proprio stupido Ai miei 18 anni A me non mi hanno mai regalato niente Dico di parenti Io mi hanno regalato una collana Idiota brutta Con una croce No C'era tipo Tutta la collana fatta in pelle E poi al centro C'era tipo un pezzo di ferro Che faceva il giro Ma che Non sei contento Con un brillantino al centro Piccolo Non sei contento Perché hanno spellato delle persone Di farti la collana Ma io voglio lanciare in fronte A me hanno piccato un po' di filo spinato E l'hanno girato No no era di marca Era quello del problema Vai A te che ti hanno regalato? Allora a me una volta è successo Alla crisi Mi sembra Sì sì bellissimo Praticamente mi ha regalato mio zio Quello da Roma Come si è capito E per niente mi ha fatto Guarda ti faccio regali Non ti ha fatto nessuna Con il filo d'argento Bella Ce l'ho fatta in faccia Ne voglio due A te Io Non lo so Portafoglio T'hanno regalato Non c'ho stato io Portafoglio Ma ti spiego perché Mi hanno regalato Un portafoglio Tra virgolette De pelle La prima maniera Pelle Di serpente E l'altro misio Lo stesso portafoglio Ah 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 Quindi Tu e c'è culo Lo sapevano perché Mi si rompono facilmente L'hanno fatto per te Ah 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 Ma quello che è stato Il giorno prima Mi hanno comprato un portafoglio Per cavolo di via Ah 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 ahahah Eri sicuro una parur di orecchini e collana a forma di lampadario belli li avrei e fai oh che bello un giochellino da collana carina un lampadario grazie è davvero molto bello potevi anche non farlo quello serviva per illuminare i tuoi occhi sei diventato un candeliur un po' che non penso adesso un orologio che non funzionava anche con la pila allora 4 ma la musica italiana vi piace? me fa schifo alla merda da morì giovanotti dei vecchi tempi quando giovanotti era giovane no c'è musica italiana che spiace a me cosa c'è perché tu m'appartiene no quella no domanda io non ho un genere musicale preferito però ascolto principalmente la musica coreana diciamo che in questo periodo ascolto sono in fissa con i bei sazzi non so che cosa sia è una bravissima cantante e attrice andremo a vedere è una nuova ricerca io la musica coreana è veramente poca ma io la ascolto però quando gabbina che ti pare quel video e tu fai che cosa sarà e ti vai a sentire ok che not che not 99 ho detto bene spero te si di sicuro non mi avete mai visto nei commenti perché di solito non scrivo mai se non c'è non c'è allora hashtag if i bag espondi gioco blizzard preferito diablo hello kitty world of warcraft diablo in specifico 1 diablo il primo io diablo 1 2 world of warcraft assolutamente e tutti no non ci stanno cazzi uno ha detto non mi interessa ci sono i migliori fatti tu l'ho detto il primo starcraft il primo starcraft pure e vabbè tutti no è giusto e allora pure io posso dire che pure a me piaceva anche se non ho mai giocato alcun ufficio ma non mi hai detto si può dire non mi hai detto mi hai detto mi trovate il crack sai chi manca io world of warcraft è il minimo neanche di allora hashtag domanda al momento la mia canzone preferita è earth no earth shabed box shabed box the nirvana oltre a svariate sigle di anime e cartoni animati no no non è come tu stiamo a due ma ascolti i power ranger go go power ranger no 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 lion king 54 hashtag domanda one last time e ariana grande eh no la canzone è one last time i need to be oh dio hashtag ai febba che saluta mi ciao hashtag ai febba che rispondi uno abitate vicini abitate a chiunque abiti di distanza uno dall'altro allora uno due e tre abitiamo vicini loro due un po' più lontane abbiamo vicini comunque ma nello stesso paese vabbè saremmo di 2-3 km distante però visto che siamo qui è l'unico che è intercontinentale io sono vicinissimo io sono proprio interregionale e lui c'è valente di trasporto per farla riva a qua abitate in un condominio o in una casa? in una casa condominio condominio io so cazzo chi tu abiti in una casa tua io ho una palacca andiamo avanti è il tuo condominio quello è 3 abitate da soli o con amici e parenti? io ho parenti ma mia che famiglia da solo e parenti non mi sto tu abiti quasi da solo però io sono da solo con la parente poi allora se io lo so queste sono delle domande abitative se vi sei notato tranquillo allora sal 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 mk sal mk sal mk hashtag domanda cantante alek tu salam cantante se non riuscite a leggermi il mio metitolo solo sal va bene hashtag domanda cantante che poi è un gruppo preferito come si dice? no lo voglio sbagliare machine dragon machine dragon machine dragon ok canzone per finita hell blind hell blind che poi dovrebbe essere due l hell blind hell 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 griff and malice ma sto sembrava una griffa legge i nomi in inglese si griff and malice mamma mia hai visto che prendessi va bene e va bene che rispondi domanda per esi adesso ti sei tagliato i capelli ma perchè in futuro non ti farai la chiama sexy? in realtà io ce l'avevo la chiama sexy avevo i capelli lunghi fino qua si aveva che stava proprio la chiama sembrava una femmina diciamoci tutti sembrava una femmina me li piastravo perchè io ho i capelli mossi però io ho ancora delle foto di quel lontano 2018 però le alzo fasce ce l'ho pure io no a me è proprio bruciata io lo giuro non lo so perchè poi c'eva la frangettona gli arrivava qua gente non si vedeva la faccia ti lo mandai da Yamela è arrivato vai swampert hashtag domanda tiz poken 2015 non so che cosa è artista Giorgiovanni è artista Giorgiovanni ah ok Giorgiovanni va benissimo DG si ashtaki febba che rispondi perchè avete interrotta la serie di Lego Marvel Super Hero e vai eh perchè l'hai interrotta dai a parte che c'era un po' di copyright a parte quello il secondo è che il PC che ti sto facendo? no semplicemente all'inizio era la prima volta che registravo da solo quindi un po' mi vergognavo quindi un po' per la vergogna un po' perchè poi non c'avevo il PC come lo reggiano dovevo andare a casa sua per registrarlo non l'ho più continuata vero e poi ho formattato e addio ed è morto ok farete una collaborazione con SP Giochi? la farà muco dai la famo fa muco che non c'è neanche il canale ma effettivamente se lamentano tanto delle differenze di scritte roba già io non ce l'ave niente Fabricio ma fantassimo quanti scritti c'hai nessuno nessuno quindi non gli cambia niente se lo aiuta o no allora Ida Luca allora hashtag domanda dell'altra volta il mio youtuber preferito è Icinga e basta ecco è il tuo fan quindi manco noi solo D solo tu vai avanti che interessani Fairbug e allora perchè sei scritto qua? No, hai scritto iFabag e iSingar Che culo Allora, il mio cantante preferito è Manu Perché le canzoni che fa sono sensate Chi? Manu Ah, Manu, ok IFabag rispondi Farete mai un video su come emergere su YouTube? Può essere Quando emergiamo te lo diciamo Lo facciamo in piscina, tipo che stiamo di qua Come si emerge? IFabag salutami Ciao 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 L'Italia Iami fine Abbiamo fatto tutte dieci le persone le domande di oggi Con tutte le domande Salutami, rispondi e tutto il resto E diamo la domanda per la prossima volta Che dire? Sì Vedè? Facciamo la domanda su Dai Reggiriamo la domanda di Luca Qual è? Come si emerge su YouTube? Come si emerge su YouTube? Secondo voi Diteci come si emerge su YouTube Dai, dateci i vostri consigli Che possono essere utili Ricordatevi i vari hashtag Hashtag domanda Commentate presto Perché visto che si avvicina ai Romics Non ci saremo Quindi magari Lo faremo qualche giorno prima Cioè Commentate velocemente E ci vediamo al prossimo Ciao ragazzi Ciao Ciao